ciao raga allora video video extra video improvvisato perché ho da dirvi delle cose allora io da lunedì finalmente inizierò questo nuovo lavoro chi non lo sapesse io ho lavorato per 15 anni come falliamo e poi purtroppo a luglio la ditta ha chiuso e quindi mi sono trovato a essere disoccupato però mi sono salvato in zona cesarini perché andrò a lavorare sempre ancora nel capannone dove ho lavorato c'è la fallina media però farò un'altra un'altra cosa quindi nuova ditta nuovo padrone sono contento veramente contento anche se non nego di avere un po di paura un po di paura per questo nuovo lavoro dopo 15 anni di fallegname è tosta devo solo stare rilassato e basta perché vi dico questo perché vi vi faccio questa questo video allora iniziano io ho detto il mio orario di lavoro è da mezzogiorno alle 20 e di soliti i miei video li registro nel pomeriggio o alla sera che ho più tempo adesso che faccio veramente secondo tu non ho mai fatto secondi turni nella mia vita questa cosa mi porta via molto tempo qualcuno dice ma se a casa al mattino faglia al mattino e al mattino dorme come tutti voi io dormo potrei fare a sabato la domenica sempre se non sono dei nemici sono da da una persona speciale che non vi dico però settembre sono riuscito a fare tutto il mese programmazione quindi non c'è nessun problema il brutto è sarà da ottobre magari non usciranno frequentemente i video ma verranno fuori una volta ogni tanto video assaggi resterà fisso almeno un video a settimana lo voglio fare poi magari deciderò di fare un altro video quanti video farò a settimana io penso però aspettare con famiglia penso di fare tre o quattro video a settimana un giorno si un giorno no vediamo dipende un po come come era andato con questo lavoro sono contento sono contento sono contento ripeto c'è un po di paura però è normale è normale adesso sono a casa ancora due giorni perché devo finire di fare i documenti le pratiche per e la visita medica per appunto iniziare lavoro la visita medica lo farò se devo bene settimana prossima però voglio che vado alla lunedì 20 a vedere un po l'ambiente com'è eccetera eccetera anche se so già com'è l'ambiente niente ragazzi questo volevo dire so già che mi verranno mi verrà commentato tantissimo questo video con le gratulazioni del lavoro eccetera eccetera vi ringrazio già adesso scusate se non riuscirò a rispondere a tutti sapete che quando riesco rispondo e vengo a trovarvi nel mio dei vostri canali e niente ragazzi veramente son contento chiedere ancora stasera un nuovo video sul mio canale non per dentro perché è molto interessante non so cosa dire ragazzi veramente volevo fare meno di 5 minuti mancano 30 secondi cosa devo dire iscrivetevi al canale attivate la campanella seguitene i miei social il mercoledì sul mio instagram c'è sempre il sondaggio per i video assaggi per lo statino basso live ormai lo conoscete bene ci voleva ci voleva un'ondata di una gioia almeno una gioia nella propria vita ci vuole ragazzi grazie per l'attenzione scusate il disturbo grazie per l'attenzione scusate il disturbo grazie a tutti